Rischia il dissesto il comune di Brindisi, è quanto trapelato dall'odierna conferenza stampa tenuta dal commissario prefettizio Santi Giuffre e dal subcommissario Albertini, proprio per rendere noto le gravi condizioni in cui versano le casse comunali ed eventuali soluzioni per evitare il default. Il bilancio di palazzo di città è in rosso ed ha un contenzioso di 50 milioni di euro. Inoltre, come se non bastasse appendere come la spada di Damocle, sono i nodi legali in materia di ambiente con nubile tra seco ed ecogas. Se i ricorsi di questi ultimi dovessero essere accolti, allora il comune andrà in dissesto, ha detto Albertini. Uno spiraglio però, secondo la struttura commissariale, potrebbe arrivare dal taglio dei latari dal prossimo anno, ma sempre se ciò sarà fattibile. La criticità più dura da fronteggiare arriva dalla mancata apertura delle discariche di Autigno, rimasta chiusa dopo il sequestro del 2015. Il costo ammonta 5 milioni di euro l'anno. Altra spina nel fianco sono i crediti dell'amministrazione comunale, che tra IMU, Tari e ICI tocca un meno 30% di entrate, anche se al momento non sono previsti i tagli ai servizi o un aumento delle imposte, ha dichiarato il commissario prefettizio. In sofferenza, anche le riscossioni. L'importo stimato dovrebbe aggirarsi sui 14 milioni di euro. Il comune ne riscuote circa 10, infatti Abaco, società incaricata dalla riscossione per conto del comune, nel caso Tari ha riscosto appena 2 milioni di euro a fronte di 14 milioni. Col segno meno anche le entrate provenienti dalle sanzioni per violazione del codice della strada. Nelle casse di palazzo città ci sono circa 5 milioni, invece dei 25 che dovrebbero essere introitati. A ciò si aggiunge il problema silinido. Il costo annuo per i servizi è circa 800 mila euro e l'ossigeno è solo poco più di 300 mila. Gravano su palazzo di città anche gli impianti sportivi. La spesa ammonta circa un milione e mezzo l'anno. Gli incassi sono solo di 250 mila. Per tutto questo, dunque, il comune ha messo in vedita alcuni beni immobili, ricevendo offerte per circa 2 milioni di euro. Altre strutture potranno essere messe in vedita dal 2018. Come sia possibile pareggiare i conti ancora non si sa. L'unica certezza è che la prossima amministrazione che si insiederà avrà una bella gatta da pelare. Alla fine dei conti è proprio il caso di dirlo. Insomma, tanti numeri e poca sostanza.